Musica Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jumpy Tech Finalmente anche sul mio canale sono arrivati i contest Contest realizzato in collaborazione con Cooler Master Come potete vedere alle mie spalle ci sono alcuni dei prodotti Cooler Master Che quest'oggi vi potrete portare a casa Allora senza tenervi troppo sulle spine andiamo subito a analizzare i punti del contest Le regole, quali prodotti vi porterete a casa e le modalità su come partecipare al contest Numero 1, come partecipare al contest Allora per partecipare al contest è una cosa abbastanza semplice Per una volta non ci sarà la botta di Cooler Ovvero che andremo su random.org e deciderò il vincitore Assolutissimamente no Questa volta farò una cosa dove verranno premiate le vostre conoscenze E il vostro sapere su alcuni giochi e sulla tecnologia in generale Allora le modalità per partecipare è solamente una E praticamente viene strutturata che è A partire da oggi che è lunedì 28 gennaio Nella mia pagina di Facebook dopo la pubblicazione di questo video Verrà pubblicata una domanda Una domanda dove voi dovrete rispondere Ovviamente dovete rispondere in modo corretto Scrivendo la risposta per intero E il primo che risponde in modo corretto Si porterà a casa quel determinato premio Poi questo è già abbiamo decretato un vincitore Poi ci sarà il secondo vincitore Ovvero farò un'altra domanda l'indomani Ovvero martedì 29 febbraio Di nuovo nella mia pagina di Facebook Farò un'altra domanda E il vincitore verrà scelto Nello stesso preciso e identico modo Nel senso che il primo che risponde in modo corretto E per intero alla domanda Vincerà il premio corrispondente Stessa cosa mercoledì Per un totale di 3 domande e 3 premi Quindi primo premio Secondo premio E terzo premio E terzo premio Le regole sono abbastanza ferre Nel senso che Magari uno può arrivare sotto la domanda E scrive il commento per esempio Che ne so Arriva, preme D Ed è il primo che ha risposto O poi magari si va a cercare la risposta corretta E modifica il commento Quindi Se vedo che qualcuno di voi Modifica il commento Scrivendo magari la risposta giusta Io escluderò quella determinata persona Da questo contest E da tutti i contesti futuri Che farò sia io Che la Cooler Master Perché comunicherò ovviamente Il nome di colui che ha barato Alla Cooler Master Così che magari in futuro Si può Preventivare Da questi burloni Che vogliono Che vogliono barare Quindi Voglio che sia una cosa corretta per tutti E ci tenga questa cosa Numero 2 Cosa vincerete? Allora Cosa vincerete? Saranno belle cose Bei prodotti Dalla Cooler Master Andiamo subito A vedere Cosa vincerà Il primo classificato Ce l'ho qua scritto In un file di testo Allora il primo classificato si porterà Il Mouse Recon Il tappetino Speed Rakes E il Tendifilo Lo Speed Rakes Praticamente è questo Il tappetino che noi tutti Avete visto anche nel mio canale La dimensione non lo so Perché di questo tappetino Ci sono 2-3 dimensioni Ovvero la L La M E la XL Se non sbaglio Ma non so Quali faccio portare Magari vi faccio dare la Medium Che è già abbastanza buono Il secondo classificato Si porterà la tastiera La Quick 5 Pro Che è la tastiera Che conoscete Magari metterò In un'annotazione La recensione Di questa tastiera Che ho fatto sul mio canale Che utilizzo Ce l'ho qui E poi Il terzo ed ultimo classificato Si porterà Le cuffie Ceres 400 Che sono cuffie davvero Ottime Per il gaming Per ascoltare musica Cose varie Quindi I tre premi Sono questi Quindi riepilogando Mouse Recon Più Speed Rakes Più Tendifilo Per il primo classificato Quindi tre premi Al primo classificato Mentre gli altri due Il secondo si porterà La Quick Fire Pro E il terzo Le cuffie Ceres 400 Numero 3 Vi invito A cliccare Iscriviti sul canale Di Cooler Master Italia Che metterò Qui Se decisamente Metterò qua dentro Iscrivete appunto Al canale di Cooler Master Italia Dove sono presenti Tantissime Tantissime recensioni Tantissimi prodotti Dalla Cooler Master Potete vedere le novità Le anteprime E tutto quello che riguarda Il mondo Cooler Master Poi vi invito anche A cliccare mi piace Sia nella mia Sia nella pagina Facebook Di Cooler Master Italia Che metterò entrambi i link Su questo video Soprattutto seguite Entrambi le pagine Facebook Perché In questo modo Non vi perdete La domanda del giorno E così potrete Aggiudicarvi Uno di questi premi Quindi Riepilogando Noi ci vediamo Sulla pagina di Facebook Con la domanda Che pubblicherò Ad orari non definiti Quindi pubblicherò Un po' Quando mi pare a me Per rendere ancora Il tutto più Più difficile E quindi Come sempre Se questo contest Vi è piaciuto Invito a lasciare Tantissimi mi piace Così che ne possa realizzare Altri Con magari Altre compagnie E quindi Se vi è piaciuto Ti invito a lasciare Un bel mi piace Ciao ciao